buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi prendiamo confidenza io per primo con questa zappetta fresa universale era un po di tempo erano due tre anni che volevo provarla dico la verità poi girando un po vedendo un po di video l'ho vista su bazar giusto tra l'altro ho scoperto che ero già cliente perché se vi ricordate quando ho provato il macinone l'ho preso si su amazon però poi alla fine me l'ha spedito bazar giusto quindi mi ci sono ritrovato già come cliente me l'ho trovato bene anche l'altra volta insomma allora vi spiego un attimino cos'è per chi non l'avesse mai vista io ho visto un po di video come dicevo via mi ha incuriosito parecchio e la dovevo provare insomma è più forte di me questa è una testina universale che si collega al decespugliatore qualunque decespugliatore può andar bene basta che sia almeno di 35 cc di cilindrata perché altrimenti sennò la potenza è scarsa sofferebbe troppo il motore quindi il decespugliatore questa non è ovviamente una moto zappa ma permette di arrivare con queste lame a fresare intorno alle piante lì dove la moto zappa o il moto coltivatore non può arrivare quindi se avete presente quando si mettono alcune colture a 30 40 centimetri una dall'altra io adesso c'è l'orto invernale dopo lo vediamo ecco con questa si può arrivare intorno oppure anche sugli alberi da frutto questo adesso lo utilizzeremo anche sugli alberi da frutto dove ho messo il concime per la concimazione invernale a base di azoto o dell'erba sotto voglio provare a smuovere il terreno con questo per far interrare il concime allora breve descrizione su come è fatto io ho iniziato la mia vita come apprendista tornitore quindi so benissimo il lavoro che c'è dietro per fare un oggetto del genere e mi appassiona ancora nonostante siamo passati un po di anni quindi sentirete nella mia voce un po di entusiasmo su questo oggettino qua che alla fine è soltanto metallo è vero parliamoci chiaro non c'è niente di tecnologico però a me queste cose piacciono parecchio allora testa tutto in alluminio lavorato ovviamente macchina cnc le zappette sono in acciaio e sono tutte intercambiabili sul sito di bazar giusto poi se vi interessa c'è il kit di revisione dove vi danno tutte le sei zappette più la bulloneria a circa 20 euro quindi non si butta via niente la fin fine si tiene la testina il peso è di circa 600 grammi 620 grammi se non erro l'ho pesato io prima quindi a un peso importante vengono fornite poi in dotazione delle rondelle per poi fissarlo al moto coltivatore lo vediamo dopo il foro di attacco e di 25,4 mm quindi magari prima di acquistarlo controllate se avete il perno che entra dentro ma sicuramente sì perché tanto è universale ovviamente una premessa non è una moto zappa non è neanche un moto coltivatore non possiamo pretendere di scendere giù di 15 20 centimetri vedete quanto scendiamo la profondità massima di lavoro è di circa 4 centimetri e mezzo 4 8 insomma non è che possiamo pretendere miracoli però serve per smuovere il terreno togliere le infestanti e tenere pulito intorno alle piante la buona idea adesso andiamo a montare vediamo come lavora combinazione vi ho parlato prima del macinone è quello che avevo montato sulla decespugliatore perché quando ho pulito gli olivi sono più utilizzato io l'ho già mollato un po c'è l'incavo si adatta perfettamente alla sede di questo adattatore quali questo di questa rondella utilizzo soltanto questa rondella qui ora siccome un po profonda non conviene che prima faccia andare dentro ecco l'unico problema è che per avvitarlo occorre una chiave a tubo ovviamente sinistro orso e si gira al contrario c'è il fermo qua sotto montata andiamo a provarlo questo filare è il mio orto inverno che ho trascurato purtroppo lavoro salute quant'altro quindi è cresciuta l'erba non avevo pacciamato e ora vediamo cosa riusciamo a fare ok l'ho dato una pulita ho rilevato un problema non della zappetta ma di quello che può succedere con un terreno come il mio molto pesante esso bagnato avete visto che vi faccio vedere è una creta la mia mio terreno il terreno peggiore per poter lavorare su meccanicamente allora succede che i grumi di terra vanno qui dentro si bilanciano la bilanciatura e il spugliatore comincia a vibrare infatti un paio di volte mi sono fermato pensando di aver rotto qualcosa invece no c'era un grosso pezzo di terreno qua dentro che sbilanciava ovviamente una volta tolto con le dita spenta la macchina tolto con le dita ho risolto il problema non vibra più vediamo poi il risultato sempre con tutti i distinguo del mio terreno sono riuscito a rivedere le piantine tra una e l'altra e a smuovere un po il terreno sempre tra una pianta e l'altra di esempio non l'ho fatto questa era la situazione che avevo prima con questa erba alta non guardate il mio orto quest'anno che disastroso qui sono passato e vedete che sono riuscito a pulire e a togliere completamente le festanti e lasciare il terreno nudo e smosso lì dove ho calcato un po di più allora voi mi direte sì ma con la zappa faccio un lavoro simile sì sì per carità però bisogna usarla la zappa io che sono un tipo che la schiena che io non la posso utilizzare questo è un buon sistema perché si sta in posizione retta e si riesce a lavorare comunque tra una pianta e l'altra perché questa è piccolina sta in un pugno io queste levo posizionate a 40 centimetri no 35 centimetri forse e si riesce a lavorare anche su piante vicino come queste quella qui dentro ci passa tranquillamente è una volta che si è preso la posizione si dà gas si pulisce il terreno si toglie invece con la zappa se si sbaglia si butta via la pianta insomma dai mi è piaciuta mi è piaciuta molto quando vedrete questo video io avrò già detto al bazar giusto che mi è piaciuta che l'ho detto intanto ho fatto un video su questa zappetta che ho trovato sul loro sito gentilmente ci ha dato un codice sconto dedicato solo a voi non ci guadagno niente del 5 per cento cliccate qua sul link e se vi interessa avete 5 per cento di sconto su questa fresetta qui costa sui 30 euro meno il 5 per cento fate voi i conti comunque secondo me è un attrezzo che vale la pena da tenere in casa soprattutto se usate poco la zappa come bene tutto per questo video se vi è piaciuto volete lasciare un like ve ne sono immensamente grato se volete iscrivervi al canale vi ringrazio così rimanete aggiornati cliccate sulla campanella poi vi arrivano notifiche dei miei video questo è uno dei primi video che faccio di testing degli articoli da campagna se vi piace o se avete qualche domanda particolare se volete che io provi qualche articolo in particolare scrivetemelo qui nelle note cerco di reperirlo e se possibile lo faccio lo faccio molto volentieri vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo